Allora Silvano Dorba, diciottesimo raduno di San Pancrazio, mi hanno detto siamo diventati maggioreni, è vero, sono 18 anni che facciamo questo raduno, una giornata che va in beneficenza, ma facciamo parlare ormai, lo vedete, questi sono i tre moschettieri, tutti gli anni abbiamo appuntamento qua con loro per parlare di questo raduno, invece quest'anno si è unita anche una bella donna, buongiorno. Buongiorno a voi, io sono Giuliana. Giuliana, allora Giuliana quest'anno partecipi, cioè sei anche tu responsabile di questo raduno? Sì, è già qualche anno che li aiuto e ora mi hanno coinvolto totalmente. È giusto, è giusto, è giusto, perché loro invecchiano piano piano, quindi hanno bisogno di qualche... Sì, maggioreni allora. Allora raccontaci un po'. Diciottesimo anno, quest'anno diamo di nuovo il ricavato come tutti gli anni e questo è il nostro scopo, dare il ricavato in beneficenza. Alla Fondazione Ospidalet, anche quest'anno, e alla Croce Verde Ovadese. Sono 18 anni che facciamo questo raduno, effettivamente è uno dei primi che è uscito e siamo contenti che tutti gli altri ci abbiano seguiti, perché anche in altri paesi si vede che iniziano a uscire questi raduni, però il nostro vanto, lasciatemelo dire, è quello di dare tutto ricavato in beneficenza. Quello importantissimo, soprattutto all'ospedalette, perché segue, è una cosa bellissima, è la vostra partecipazione. Quindi il responsabile di questi camioni grossi, belli e antichi è lui. Allora anche quest'anno dobbiamo dire grazie agli sponsor che ci hanno dato una grossissima mano per riuscire a fare questo. E in più facciamo la solita mostra statica di mezzi da lavoro, camion, quindi ci saranno un po' due o tre chicche che non svegliamo adesso, se no è inutile. E poi ci sarà anche la premiazione, perché durante questo pranzo che voi fate ci sarà anche la premiazione, no? Certo, quest'anno vogliamo premiare un po' tutti, estrarremo a sorte i premi messi a disposizione dagli sponsor, dai vari sponsor. Speriamo che sia una bella giornata di bel tempo, che ci aiuti, che ci sia affluenza di pubblico, di auto, di moto e di curiosi anche a visitare, a vedere. Soprattutto i giovani, soprattutto i giovani, perché sono loro che devono vedere le macchine antiche, guarda queste erano signore macchine, non quelle di adesso che sono fatte tutte elettroniche. E come si faceva veramente nell'artigianato un capolavoro, anche le moto. Noi saremo a Silvano il 7 di maggio, da un quarto alle otto del mattino cominceremo a fare le iscrizioni. È la diciottesima edizione, quindi non perdetevi, ci vediamo ai prossimi tre minuti. Ciao, grazie. Grazie.